Ecco a voi il GSR14,4 e il GSR18WLI HX Professional Bosch, gli avvitatori a batteria con portabit universale che consentono un cambio utensile in pochi secondi. Sono gli avvitatori a batteria più compatti della loro categoria. Il peso ridotto garantisce una perfetta manegevolezza. Con un portabit universale da un quarto si possono sostituire rapidamente tutte le punte e i bit di avvitamento più comuni. Inoltre è eccezionalmente efficiente. Con una sola carica della batteria si possono avvitare fino a 826 viti. Lasciatevi convincere delle prestazioni del GSR14,4 e 18WLI HX Professional Bosch, gli avvitatori a batteria più compatti della loro categoria con portabit universale.